questo è un messaggio che spero che condividano tanti juventini come me caro presidente innanzitutto mi sento di ringraziarla sento ringraziarla per tutto quello che ha fatto la juve nella juventus da otto anni a questa parte da quando si è seduto sulla poltrona dirigenziale è stato di gran lunga forse il presidente più vincente della juve addirittura più di boni perti più della triade i miei mogi girau de betega più di qualunque altro ecco forse manca solo il tassello europeo per confermare questo fatto per elevare lei come miglior dirigente della storia della juve manca forse la champions e ci rendiamo conto credo tutti tutti i tifosi dotati di un minimo di quoziente intellettivo si rendono conto che il periodo storico che stiamo affrontando non è il periodo storico che ha affrontato boni perti o che ha affrontato la triade dove la juventus era incontrastata a livello di a livello economico la juventus è una delle squadre che dettava leggi a livello europeo a livello societario e a livello economico quindi era più semplice creare una squadra forte che potesse competere per tutto e quindi siamo tutti consapevoli che lei ha preso una squadra che era appena tornata dalla b da pochi anni e che veniva da due settimi posti anzi da uno l'altro l'ha fatto con lei ma ci stava ci stava tutto e ci sta e anzi mai avremmo pensato di poter tornare a vedere diciamo la luce addirittura battere tutti questi record che abbiamo battuto superare i cinque scudetti del quinquennio arrivare al sesto addirittura settimo fare quattro double consecutive battere record di coppa italia consecutive e fare due finali di champions contro squadroni che avevano il quadruplo quintuplo del nostro fatturato ecco di questo posso solo dire grazie dire grazie però siamo la juve è una delle cose che io mi aspetto dalla diligenza della juve e che da fuori e che ci siano difese su gli infami le calunnie che vengono da fuori non ne posso più di sentire gente che critica la scelta della juve di pubblicare sullo stadium 36 scudetti dicendo non state alle regole allora caro signor agnelli o cara cara diligenza juve facciamo una bella cosa spieghiamo la storia spieghiamo che la cassazione ha decretato quei due campionati regolari e allora forse avremmo anche motivo di metterlo spieghiamo anche che ci sono due campionati del 908 e del 909 che noi abbiamo vinto ma che non si sa perché non vengono riconosciuti alla figici quindi dovrebbero essere già 38 e non 36 ecco queste cose diciamole ma diciamole apertamente un'altra cosa che mi sono stufato di sentirmi dire è che noi rubiamo ecco sono riusciti a far passare uno scudetto tranquillo come quello dell'anno scorso o una vittoria come quella di napoli come quella di sabato frutto di errori arbitrali ecco caro cara cara dirigenza forse il caso di smetterla o perlomeno di querelare certe persone io sono stanco di non poter andare su twitter come tutti come tutti i tifosi della juve non possiamo andare su twitter perché c'è gente che sono giornalai che si reputano giornalisti che insultano e ci infangano in una maniera vergognosa e non possiamo neanche controbattere se no ci bloccano e non abbiamo forza di ripetere allora forse è il caso di denunciare ma di denunciare e se l'avete fatto di questo vi ringrazio ma forse è il caso di farlo farlo vedere che avete denunciato in modo da sputtanare una volta per tutta certa gente che il patentino da giornalista bisognerebbe evocarglielo sono stanco di sentirmi dire queste cose anche da altre società che avrebbero altri altri problemi a cui pensare però continuano ci infangano ora è giusto io non entro neanche nel caro biglietti non me ne frega niente quella è una cosa che riguarda la società e la curva e io non ci metto becco ma le difese che arrivano da fuori la società dovrebbe anche prenderle sono stufo di vedere quello che è successo a madrid l'anno scorso dove benatia entra sul pallone viene dato un rigore e invece che difendere il nostro capitano agnelli parla ha parlato dicendo che ci vuole var sì però ci vuole anche di ci vuole anche più più cazzatura ora è arrivato ronaldo e tc a le cose possono cambiare e poi ci rendiamo conto che a valencia ci buttano fuori ronaldo per una carezza e nessuno della juve ha parlato chiedono il var io non voglio signor agnelli io non voglio che lei chieda il vario che lei chieda rispetto perché anche col var abbiamo avuto la dimostrazione l'anno scorso se vogliono fare le porcate le fanno in quanto i signori che si lamentano degli errori arbitrali hanno qui hanno avuto l'anno scorso 15 punti in più e ne sono arrivati a 91 punti grazie al var che non funzionava mentre noi invece il var ci ha frenato ma tanto ci ha frenato non con la giusta con le cose giuste con le cose sbagliate detto questo sono stufo di sentire parlare report su una cosa già chiusa e allora io mi auguro report farò il servizio ma poi denunciateli ma fatelo capire ditelo che state denunciando ditelo ditelo sputtanateli sputtanateli non me ne frega niente non me ne frega niente questa gente che bisogna colpire e allora sono l'unica che può colpirla siete voi società juve e lei signor agnelli sono stufo di leggere stupro di ronaldo in una cosa di nove anni fa che viene fuori proprio adesso e nessuno dice niente chiaramente so che starete sicuramente lavorando sotto banco per la difesa ma è chiaro che una volta che succede una volta che succederà che verrà scagionato perché verrà scagionato io mi aspetto che lei si faccia sapere si faccia sentire come mi aspettavo che si facesse sentire per i premi vergognosi che hanno dato a modric che erano di ronaldo parliamoci chiaro ecco tutto questo io ho capito che lei signor agnelli ha in testa al sogno che aveva anche suo nonno quello della super lega europea e mi auguro che si possa fare domani mattina nel caso si potesse fare ascolti me metta dentro l'inglese metta dentro bayern mette dentro il pari san germain mette dentro barcelona e tenga fuori real madrid era deve rimanere fuori da tutto perché se ci mettiamo dentro del madrid tempo pochi anni saremo ancora qua andare in giro andare in giro sperare e sperare perché real ha una potenza incredibile purtroppo anche politica quindi mi auguro signor agnelli so che non avrà letto sicura non ascolterà questa lettera nel caso nel dubbio l'avesse ascoltata mi permette di dare qualche consiglio si faccia un bel pool di avvocati e magari forse comincia a difendere un po di più e soprattutto attaccare un po di più molti giornalisti ci siamo presi ronaldo quest'anno chissà coi soldi che ci dovranno dare si giornalisti se cominciamo a farci valere potremmo comprarci anche messi